comunque tenetene conto che ci sono dei piccolissimi riconfiamenti che oltretutto sono fondamentali per dare le espressioni e comunque la bocca a questo punto sarà così qui mi scende qui via e qui mi arriva qua e poi qui invece c'è la l'angoletta e qui c'è il naso questa linea me la tengo e qui l'altra cosa non so se ci fate caso qui c'è una zona indefinita perché il lab nel mentre il labbro superiore in qualche maniera c'è un riflesso chiarissimo qua quasi sempre il labbro superiore è definito arriva fino a qui quest'altro in genere parte un po meno in maniera un po meno definita ok col chiaro scuro però poi lo vedremo col chiaro scuro secondo disegno le labbra sono più sottili quindi ci abbiamo l'asse asse questo facciamo vita che sta qua questa acqua misuriamo perché vogliamo essere vogliamo fare i precisi ok ci ho seccato e c'è sempre un arco ok dopodiché se la questo era piuttosto pronunciato diciamo che era vagamente non era di una donna bella con le labbra molto carno piuttosto carnose invece facciamo le labbra di un tipo un po' nevrotico che c'è labbro superiore molto ridotto e labbro inferiore vabbè qui però dovrebbe perché siccome quelli molto nevrotici non lo buco lo stritta perché tutta questa parte qui serve e protegge perché ci hanno sempre le la muscolatura è tutta contratta non lo tirano tutto tirano pure questi muscoli qui in genere allora c'hanno 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 labbra molto più strette diciamo no cercherebbe questo ha fatto un'altra caricatura vabbè detto questo qua sopra sempre c'è il pallino qui ci sono praticamente inesistenti questi qui ce ne facciamo uno e uno due e allora abbiamo la bocca che fa così così e così e le labbra qui il punto qui e va va così ci siamo qua sopra c'è sempre questa cosa qui questa è così e qui va così e c'ha c'ha sempre ok e anche qui le labbra sono alcuni addirittura questa è la parte inferiore delle labbra è inesistente quindi ci sono molte come vedete sono due persone completamente diverse no dopodiché facciamo finta che abbiamo un nero i neri hanno le labbra molto carnose molto pronunciate no molto voluminose anche allora che anche perché poi in genere questa parte di questa parte del teschio è un po più avanti no allora che sarà sarà che c'è l'asse centrale quindi facciamo una bocca che sia un po più stretta tendenzialmente e la facciamo con un arco molto pronunciato di sopra e con una parte molto voluminosa anche di sotto di sopra ci abbiamo sempre sto giochetto qui glielo stringiamo e qui lo stringiamo troppo facciamolo fino a qui qui c'è questo questo qui e questo qui questa parte quindi e qui ci sono i due le due parti questa è molto più grossa pronunciata e quindi qui ci avrò questa parte questa parte questo qui e questo qui questi sono tutti molto pronunciati e sotto ce ne avrò uno e due arriva qui arriva qui e anche qui se ne viene in avanti cioè se ne viene in avanti questa è l'ombra sotto le labbra poi le labbra sono qui ok e qui andrebbero così e già con pochi segni si capisce che stiamo parlando probabilmente di un africano molto bene ma